Oggi vi parlerò di religioni. Esistono religioni iconoclaste e religioni veneranti immagini sacre. Esistono religioni monoteiste e religioni politeiste. Tutte sono una via per la conoscenza di Dio. Ecco che l'uomo conosce Dio tramite la religione che gli è più consona. Il problema c'è quando l'uomo crede invece al denaro come Dio. Quindi tramite la salutazione del denaro rimarrà sempre insoddisfatto perché non ci sarà mai denaro per tutti e quindi ci sarà solo insoddisfazione. Riguardo poi agli angeli e alle creature angeliche delle religioni. Ecco che chi crede, crede nella loro benevolenza, nel loro contatto con creature benevole. Chi invece crede nel Dio denaro, ecco che crederà a qualcosa di chissà come, qualcosa che potrebbe portargli via i propri averi, quindi la paura di perdere i propri averi. Invece così non è. E benvengano queste creature, benvenga questo incontro di bontà fraterna tra tutte le creature dell'universo.